Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che vedrà il graduale allontanamento dall'Italia di quest'area di bassa pressione posizionata tra il Marioni e il Mare Gio, ma che piano piano appunto si sposta verso il Mediterraneo orientale a favore quindi di un'area di alta pressione che rimonta su tutto il nostro paese. Anche come nuvolosità vediamo il graduale allontanamento verso est delle nubi che hanno interessato l'estremo sud, insomma giornata davvero tranquilla, queste macchine nere che vediamo sulle regioni settentrionali sono delle velature, nulla di più. Come precipitazioni quindi si vanno attenuando le piogge nelle estreme regioni meridionali, sostanzialmente quindi giornata anche da quel punto di vista abbastanza tranquilla, magari qualche locale piovasco nelle zone interne della Sicilia. Per il resto tanto sole, temperature in aumento con punte massime fino a 28-29 gradi all'ombra al centro nord, al sole toccheremo anche i 30. Per tutti i tali sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.